Il sindacato COSP di Polizia Penitenziaria torna a farsi sentire a Cremona per denunciare la difficile condizione in cui si trovano ad operare gli agenti. La richiesta alla direzione è di ripristinare al più presto il riscaldamento nelle garitte e i gabbiotti sul muro di cinta. Da mesi gli agenti che effettuano i controlli devono restare al freddo, con conseguenze sulle condizioni di salute. La nota è stata inoltrata al Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria e al Proveditorato regionale. Il COSP coglie l'occasione per esprimere la propria gratitudine al lavoro degli agenti che ha permesso il ritrovamento di alcuni cellulari all'interno del carcere. Innanzitutto vorrei complimentarmi da parte della mia segreteria generale e da me stesso al corpo della Polizia Penitenziaria di Cremona che quotidianamente con molta disponibilità e con molta dedizione affronta il suo lavoro con attenzione. Grazie a questo si è potuto rinvenire questi oggetti all'interno dell'Istituto e mettere per certi versi in sicurezza ancora una volta la circonderare di Cremona. Per quanto riguarda i problemi che la segreteria generale ha sottolineato con una lettera fatta direttamente al Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria e al Proveditato regionale abbiamo dei gravi problemi di riscaldamento delle garitte. Le garitte sono strutture che sono istituite e sono costruite in cemento all'interno di strutture inferno quindi sono ambienti molto freddi e molto caldi nelle stagioni. Purtroppo a Cremona sono già 4-5 mesi che si hanno questi problemi relativi al riscaldamento che ancora non sono stati risolti. Il Cosp denuncia però anche l'impossibilità di mantenere un dialogo con la direzione che pare sorda alle istanze dei lavoratori e del sindacato. Al centro dello sciopero della fame inaugurato dall'agente Cenicola in dicembre e sospeso in seguito al terribile incidente occorso alla famiglia di un collega c'era infatti la proibizione per il neonato sindacato di esporre in bacheca informativa e comunicazione per gli agenti. A sostegno della richiesta del Cosp alcune importanti sentenze e la Corte Costituzionale la direzione è stata denunciata dal sindacato in base all'articolo 28 dello Statuto dei Lavoratori per attività antisindacale. Noi chiediamo solamente la possibilità come da Costituzione e come da sentenze di poter avere uno spazio sindacale che il diritto costituzionale ci dà.